Buonasera, giovenche e sbilenche, sono Nolan e questo è Footlol Epic Fail League, un titolo che se non vi fa venire voglia di strozzarvi con la prima cosa che trovate a disposizione, semplicemente non possedete un'anima. Sto facendo questo gioco perché ce l'ho su Steam, non so per quale motivo, sai uno di quei bundle, tipo Humble Bundle, cose del genere, tipo paga un centesimo, prendi un pacco di giochi a caso, probabilmente è una roba del genere ed è così che mi è arrivato in casa. L'ho voluto provare e ho scoperto che questo gioco rappresenta ampiamente la mia concezione di calcio e quindi adesso posso finalmente fare un video in cui parlo di calcio, non siete contenti? No, non ho intenzione di parlare di calcio alla lunga. C'è stato un periodo nella mia vita in cui il calcio ne ha fatto parte della mia vita e poi mi sono strarotto le balle entro i miei 15 anni, avevo già smesso, ma comunque ci sarà tempo. Vi mostro un pochettino di cosa stiamo parlando qua, insomma, già il fatto che si chiami Footlol e tutta quella merda là, insomma, dovrebbe farvi un'idea. Non è FIFA e non è PES, ok? Non è FIFA e non è PES, sta soltanto quello che non è, tra le altre cose. Abbiamo delle skill, del cazzo, sì, andiamo in giro e andiamo a fare cose. Adesso vi faccio vedere in che senso questo è calcio, ok? Dobbiamo vincere, ci dice, grazie. Stiamo giocando contro una squadra di bionde, a quanto pare, dobbiamo vincere prima che finisca il tempo, quindi abbiamo minuto e trenta. La squadra di bionde sono la Francia, a quanto mi sembra di capire, avevo già selezionato l'Italia io prima. Click to continue, abstract your opponent. Abbiamo solamente una skill per adesso, ovvero quello del posizionare delle mine a terra. E lui adesso ci fa vedere che premo uno, seleziono la skill, seleziono la skill, seleziono... E che cazzo? Vabbè, clicco qua allora, uno non va. E faccio esplodere alla Ockbar il portiere, ecco qua. Campioni del mondo. Vedete, questo è il mondo del calcio. Io piazzo delle mine a terra, per fare in modo che i giocatori nemici, nemici, i giocatori della squadra di bionde contro cui stiamo giocando, esplodano! Perché voglio dire, decubertin, funziona così? No, lo spirito sportivo e roba del genere. Tira! Ah, vabbè, se non ci penso io a far esplodere l'avversario. Ah, dai, forza, tira! Eeeh! Niente, questo è il gioco, essenzialmente. Questo è il gioco che costa letteralmente una manciata di centesimi. Palo, palo, signori. Aspetta, eh. Forse ce la puoi fare. Grande! Neanche Baggio da lì. Il fatto che io abbia citato Baggio dovrebbe farvi capire quali sono gli ultimi periodi della mia vita che mi hanno fatto seguire il calcio, voglio dire, fate voi. Io mi ricordo delle robe che mi fanno venire voglia, veramente, di morire. Mi ricordo... Mi ricordo quelli che è il calcio con Fabio Fazio in televisione, che me lo guardavo. Mi ricordo... Eh, beh. Mi ricordo robe. Tante robe di un periodo passato. Portiere? Vai. Campioni del mondo. Tre stelle. Bene. Benissimo, niente di cui lamentarmi. Possiamo prendere una seconda skill adesso, quindi... Ah, ok. Sarà tipo fruzzato il gioco per un attimo. Abbiamo... Questa skill. No, ma io questa skill ce l'ho già. Ah, ok. Posso tipo potenziarla. Adesso... Ah, abbiamo 20 mine. Adesso possiamo avere 40 mine. Questo non me lo fa comprare ancora. 60 mine. Si basta? Quante cazzo vuoi che me ne serva? Ecco, appunto. E questo, invece, che mi permette di ripararmi dalle mine. Per contrario. Cioè, se me ne tirano contro, con quello divento più resistente. Partita, vai. Scusate. Sì, sì, sì. La sappiamo l'antifona. Giochiamo contro l'Austria. E tutti salutano felici. Use a shield to protect your team. Put your shield on your team member. Tipo quale? Questo? Sì, ok. Ah, tipo al portiere. Così il portiere non rompe le balle, diciamo. Esplodere il portiere? Palo goal. Guarda, da manuale. 2-0. Ma proprio... Ma che problema c'è? Non ci serve a niente. 3-0. Ma vaffanculo. Tira! Tira da lì! Vabbè, è un massacro. È un massacro? 5? 5. Chi più ne ha, più ne metta. Guarda, non ti faccio fare nemmeno il calcio d'avvio. Va a cagare. Anche tu? E anche tu? No, mi sparano al portiere. Ma come? Va, ma sì, vabbè. Ma di cosa stiamo parlando? Vai, 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 vai. E' inutile, tanto il mio portiere è immortale. E il tuo no. Era goal quello, non si è capito bene come. 9-0, dai, arriviamo a cifra tonda. No, l'ha parata. Peccato. Insomma, quando cazzo era tipo i primi 2000 che ho lasciato perdere completamente il calcio? Forse... Boh, insomma, in quegli anni là c'è stato un periodo in cui lo si viveva abbastanza intensamente perché c'è stato un periodo negli anni 90 in cui il Pisa, io sono di Pisa, era abbastanza ben messo se la giocava tra la Serie A e la Serie B con l'amministrazione di Anconetani e quant'altro. Ci aveva anche signori giocatori. Ci aveva... Ci aveva avuto addirittura per un certo periodo anche il portiere della nazionale brasiliana, Dunga, cose del genere. Cose completamente a caso che io mi ricordo perché adesso non so assolutamente più niente del calcio e l'ho perso di vista da un po'. Il fatto è che, insomma, c'avevo un amico che era particolarmente addentro al settore, gli piaceva il calcio e quant'altro e quindi mi portò a fare l'abbonamento al Pisa in curva, però era già gli anni in cui l'amministrazione Anconetani era fallita per irregolarità di qualche tipo, come succede nel mondo del calcio di Noantri e successe che, insomma, praticamente l'abbonamento non costava un cazzo, ma perché il Pisa era tipo in Serie Z, mi ricordo cos'era, veramente qualcosa di brutto e inutile e quindi letteralmente il mio amico mi ci portava e io ci andavo tutte le domeniche, ogni due domeniche, quando si giocava in casa e il bello era che non me ne fregava assolutamente niente, però lo facevo per stare in compagnia, però in generale mi fregava del calcio e ricordo distintamente che ho iniziato a seguire il calcio nel 1994 con i mondiali di USA 94 in cui l'Italia arrivò in finale e poi perse, disperatamente ai rigori con il Brasile che mi ci prese troppo a male, però sapete cosa? Forse è anche il fatto che... dai dove devo cliccare per andare avanti qua forza? Ah eh, cos'è? Boost, no non me ne fotte un piffero del boost, no 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 no, prendiamo tipo le nostre 40 mine, 60 mine, un po' di protezione, all the skill points used, va bene, 60-40 della velocità non me ne fotte un piffero, anche perché voglio chiacchierare di stronzate e voi state là a sentirmi. Di fatto, forse il fatto che fosse USA 94, giochiamo contro l'Inghilterra, speriamo di fargli un culo incredibile a questi spocchiosi test di cazzo. Che dire, forse il fatto che fossero in America ha aiutato nel creare una sorta di ulteriore senso di magia forse agli occhi di un ragazzino, nel senso che c'era tanto... come si dice? Vigol... c'era tanto spettacolo, c'era tanto... come dire... erano gli Stati Uniti, ok? Si facevano i mondiali negli Stati Uniti, quindi vuol dire che sicuramente c'erano tanti soldi a disposizione, tanti sponsor, campi immensi, grande spettacolo e mi colpì, mi colpì molto dal ragazzino questa cosa e... probabilmente non c'avevo molto la concezione dell'immensa differenza del calcio di club al calcio... ah che palle... al calcio insomma internazionale, dove sicuramente c'è la possibilità che ci sia maggiore... come dire... giustizia o sicuramente minori intrallazzi di quanti non ce ne siano in Italia che apriti cielo, voglio dire... cioè è tutto magna magna e lo sappiamo tutti, è anche il motivo per cui ho smesso poi nel tempo di seguire il cazzo... no il calcio scusate... il cazzo lo seguo ancora... no niente non ci fa toccato quella frase là... e... e dai... ecco... 3 a 1 e si inizia a ragionare... esplodi esplodi... comunque... vabbè campioni del mondo... 3 a 1 però niente 9 a 0 stavolta peccato ma vabbè... e... insomma nonostante la grande delusione di quel mondiale là... finì che io cercai nuovamente quella sorta di... di magia... quella sorta di... delle sensazioni che tanto mi erano piaciute e quindi... ho iniziato a seguire il calcio... no scusa... ho iniziato a seguire il calcio di club dall'anno dopo... dal 90... 94-95 insomma... e... mi ricordo distintamente che... vabbè... io ero sempre... sono sempre stato juventino... lo ammetto... con un po' di senso di colpa anche ma... sì... sono sempre stato... ho altri punti... non mi ricordo neanche dove si vedono i punti... vabbè... vabbè... no... non ho altri punti... io penso che questo fosse un gioco da cellulare originalmente eh... ma vabbè... ehm... ci sono delle cose che posso acquistare... quindi vediamo un pochettino... a prescindere dalla velocità in più... questo che cos'è? player speed... player accuracy... accuracy eh... perché... perché sono un linguista e un fine traduttore... eh... lo skill slot... no... me lo sbatto proprio al pisello... qua che cos'è? 10% more skill... eh... income... no 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 no... player speed... e basta... essenzialmente... quindi giochiamo... contro chi stavolta? ehm... si si lo sappiamo... contro gente... che cazzo è? contro la squadra degli SJW... viola... con... con dei capelli... dei cappelli... che cazzo è sta roba? vabbè... ok... ehm... non mi faccio eccessivamente problemi di... di stile... bisogna segnare però... quello si... quindi... tira... tira da là! dov'è la palla? non la vedo... tira! vai... campioni del mondo... ok... ma se io cicao... 47.000 mine... tutte qua davanti al portiere... potrebbe essere tipo un modo... per vincere sempre... perché come il portiere torna in casa... esplode... proviamoci... vabbè 3-0... che problema c'è... e... dicevo... mi sono a quel punto gettato dall'anno dopo... per un paio d'anni... non di più... nel mondo del calcio di club... ehm... perché vabbè... mettiamola così... anche tanta gente di quella... di quella che aveva contribuito a... a quell'Italia... a essere vincente... vincente... a essere quasi vincente... arrivare comunque sia in finale... e perdere ai rigori... c'era... c'era Baggio... c'era Del Piero... c'era Ravanelli... c'era tanta gente che... erano della Juve... all'epoca... perché la Juve c'era un sacco di soldi... probabilmente perché... vabbè... ovviamente per l'amministrazione... che cazzo era... era... Agnelli... che non so nemmeno se... se siano ancora tecnicamente proprietari o meno... e... e... insomma... era... buona parte della nazionale... stava nella Juve... inoltre... scusate... inoltre... tutti i miei... amichetti... compagni di classe e quant'altro... erano milanisti all'epoca... e quindi mi stava sulle palle... poi il Milan era di Berlusconi... e non capivo come piace... come facesse a piacere... quindi io per contro... visto che... l'Inter era già una barzelletta all'epoca... mi sono messo tipo a seguire la Juve... ero diventato fortemente fan... ma fortemente fan... cioè nel senso... io... da questo punto di vista... come ho detto nell'altro video... probabilmente sono... sono figlio di mio padre... davvero... in questo... in questo senso... perché... bevo... mmm... perché... essenzialmente... ho avuto... specialmente da piccoletto... passioni intense... e... che duravano... il giusto... ok? eh... infatti quella del calcio mi è durato intenzialmente per due anni... ma io in quei due anni... seguivo il campionato... andavo la domenica quando potevo allo stadio... facevo l'abbonamento in curva... con amici... eccetera... non me ne fregava un cazzo del Pisa... ma ci andavo lo stesso... andavo allo stadio con la radiolina... per ascoltare che cosa diceva... che cosa succedeva alla Juve... da altre parti... e... no... come? ah... c'è... c'è... un obiettivo opzionale... devo concluderlo col 3 a 2... come cazzo faccio? ah... non è opzionale... devo necessariamente vincere con un 3 a 2... mi stai prendendo per il pene? vabbè... eeeh... vabbè... devo minare il mio portiere quindi... vabbè... mino il mio portiere... toh... benissimo... adesso mino il tuo... uno pari... difficile eh il gioco... ok... adesso mino... adesso mino c'è l'entano... scusate... vai... eh... uno due... no... no... uno tre... abbiamo perso... eh... non è facile sta roba però... vabbè... ok... allora... intanto concentriamoci sul farli... i punti... sul fare i goal e poi andiamo a prenderne due... ok... proviamoci... questa cosa mi... vabbè... 1 a 0 ce la posso fa dai... 1 a 0 contro il Giappone ce la posso fa... ah boh... parati tu... e parati tu... mettiamo veramente la contraerea qui... bene... ok... campioni del mondo anche qua... tre stelle... insomma... eh... quello che succedeva era che... essenzialmente... ci andavo a seguire la partita... a seguire la Juve... la Juve... tra l'altro quell'anno... quegli anni là... si tolta anche delle soddisfazioni... vinse la Coppa dei Campioni... io ero talmente fan... che mi compravo... mi compravo... quanto è ridicolo il fatto che in Italia abbiamo tutti questi... tutti questi giornali sportivi... tutti questi giornali quotidiani... interamente dedicati allo sport... io compravo tutto sport... perché tutto sport era particolarmente juventino... come giornale... all'epoca... non so neanche se esiste ancora... aumentiamo un po' di velocità... e mi ricordo che... non me ne fottei un cacchio... before the end of the match... ah non ho selezionato le... non ho selezionato... non c'ho niente... ah no ce l'ho... ce l'ho scusate... mi ha dato la velocità... ma io la velocità me la sbatto al cazzo... she want to make more money... complete optional task... vabbè... io un 2-0 ce lo posso fare... tranquillo... bravissimo... perché mi tirano della cacca... il problema è che mi tirano della cacca... e non posso... eh vabbè... non ho le mine... quindi non posso fare solamente questo... tipo aumento la velocità... di tutti quanti... li rendo dei super... supereroi qua... insomma... sono durato un paio d'anni a seguire la juve... la juve campione d'europa... e cose del genere eccetera... poi... mi sono cagato i coglioni... ok... perché... ci ho messo un paio d'anni a capirlo... ma non c'era assolutamente niente... della... della magia dei mondiali... e forse di quei mondiali... ovviamente era tutto un misto... era un misto di spettacolo... e... di quanto fossi suggestionabile io... a quell'età... e di cosa magari... ha potuto significare in quel momento... sono cose che non ho mai più ritrovato... ok... sia... nel calcio... professionale... che nel calcio di serie... minchia... in cui era il Pisa... all'epoca... senza le mine però non si riesce a giocare... dai... questo cos'è? ok... vicino o lontano... beh insomma... una grande scelta registica questa... no... senza le mine non si va da nessuna parte... in sto gioco... certo... potrei accelerarli ma... eh... sa se ci sono tipo i supplementari... i rigori... quella roba la... certo... non riesco a pareggiare... non lo scoprirò mai... quindi... comunque sia... mi son rotto le balle dopo un pochettino... e... ho lasciato perdere... son tolto un po' di soddisfazioni... per così dire calcisticamente parlando... con la Juve... poi... la cosa affascinante è... io penso che... smiti di seguirlo il calcio... perché... venne fuori appunto... che la Juve... aveva dei magheggi... ma... pesantissimi... ma... con moggi... e cose del genere... c'erano... compravendita di partite... storie di questo tipo qua... e... è successo essenzialmente... un grande casino... la società... per come era all'epoca... fallì mi pare... la... la Juve... perché era la Juve... invece di essere retrocesso completamente... fino alla serie... minchia... full retrocesso... tipo... mi pare in serie B... e c'è stata per tipo un anno... adesso non vorrei dire... imprecisioni... non me ne frega particolarmente... però... così è andato... io a quel punto avevo smesso... e mi ricordo chiaramente... un... un senso... stilistico di... di cambiamento proprio... a livello visivo... vi spiego cosa intendo... io... all'epoca... ovviamente... stavo in casa... con... con mia mamma... mio padre se n'era già andato... da qualche anno prima... e... avevo anche smesso... di... 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 tempo con mio padre... insomma... non me ne fregava... particolarmente niente... e... non... ci stavo... molto bene a contatto... insomma... per... vari motivi... quindi... iniziando ad andare... a vedere le partite... con gli amici... ma che carino lo sfondo qua... però... non l'avevo manco visto... e... iniziando a seguire partite... cose del genere... io la domenica... non volevo andare con lui... volevo andare... allo stadio... con amici... essenzialmente... la gente... cioè... viene stato lui... lui... se ne accorse... alle... uno a uno... non mi ricordavo neanche... che avessero segnato loro... quando cazzo hanno segnato loro... vabbò... voi esplodete... e noi non ci facciamo problemi... cacchiamo 26.000 mine qua... e... tira da lì... tira da lì... tira da lì... come un campione... no... no... vabbè... uno a uno... no... no... devi tirare... tira... tira... ma no... la palla esplosa... ma chi che... che palle raga... esplodete... tira... tira... ok... essenzialmente... mi ricordo tra l'altro... questa occasione... in cui io andavo... cioè... volevo andare allo stadio... a vedere la partita... e... invece che vedere mio papà... nel... nel weekend... però non glielo volevo dire... perché mio padre era sempre stato una persona abbastanza incazzosa... quindi... eh... gli dissi una cazzata... gli dissi che stavo male... che... non potevo uscire di casa... e in realtà andai a vedere la partita... mmm... non è... non che fosse una cosa particolarmente carina... però insomma... voglio dire se... conosceste mio padre... capireste per quale motivo... non era particolarmente... possibile... o bello... passarci del tempo... assieme insomma... non era una persona particolarmente gradevole... tira... Cristo di Dio... tira... tira... cazzo... no 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 no... non ce la faccio... maledì... tira... a un secondo signori... a un secondo... tre pari... ebbè non ci sono i supplementari... una stella... e basta... vabbè... niente... poi praticamente... siccome sono sempre stato un... un genio del male... eh... tipo la settimana... seguente ci andai... a vedere... a vedere... insomma... a passare del tempo con mio padre nel weekend... a casa sua... e... mi tradì... dissi una cazzata... cioè nel senso... dissi una cosa che... tradiva il fatto che non stavo male... la domenica precedente... lui si è incazzato... e mi ha detto tipo... ah... se non mi vuoi vedere... allora basta che lo dici... non c'è bisogno che mi dici scuse... e io gli dissi... non ti voglio vedere... e... da quel giorno sono passati... quanto... più di 15 anni... sono passati 15 anni in cui non l'ho visto... essenzialmente... e... e... e boh... così era... così è andata la cosa... quindi il calcio mi ha un pochettino salvato anche da questo punto di vista... per carità... non che sia una cosa particolarmente allegra... però non lo volevo vedere... insomma... oh... era una testa di cazzo mio padre... che ci posso fare? eeeh... però a prescindere da questo... mi ricordo che... vabbè... ci ho avuto un paio di anni... intensi dal punto di vista calcistico... poi vabbè... con tutte le... le pastelle... che c'erano... le... le... gli intrallazzi... i... i casini... compravendita di partite... cose assolutamente tristi dell'epoca... ho completamente perso la voglia... e come dicevo... mi ricordo... un chiaro... cambiamento stilistico... però la dovete smettere di tirare la merda sul campo... che palle... te... no... protezione al portiere perché è importante... protezione a te... protezione... alla tua mucca... ehm... certo portiere fai schifo... no no... allora... tira da lì... tira... 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 bravo... ok... ehm... insomma un certo cambiamento stilistico... in camera mia... dovete sapere che camera mia... era... mh... veramente veramente piccola... ehm... mi ricordo che... letteralmente c'era qualcosa tipo... mh... mh... tre o quattro passi di spazio camminabile... e il letto era... incastonato sotto l'armadio... come... come spesso capita per... risparmiare... risparmiare spazio... era un letto di quello a... a ponte... per così dire... sopra c'era l'armadio e sotto... il mio lettino... e... tutta camera mia... letteralmente tutta camera mia... era ricoperta... di poster... a... proprio... tipo carta da apparati... letteralmente... ovunque poster... e... questi poster... cos'è sta roba? ah... sono... sono gli acivi... gli acivi... c'è niente che possiamo comprare... mille... mille... questi... che sono le uniche cose... che servono per vincere... in questo gioco... e va bene così... e insomma... camera mia... letteralmente contro la Finlandia... camera mia... era completamente tappezzata... di poster... e all'epoca erano poster... di... di calcio... poster della Juve... e cose del genere... tra cui... i citati... Baggio del Piero Ravanelli... e quant'altro... tra l'altro era... era buffo... perché mi ricordo che... c'era un giornale tipo... non mi ricordo... si chiamavano qualcosa tipo... tutto calcio... robe del genere... giornaletti di merda... fatti per... per ragazzini... e fan... quello che c'è... eh... cioè... la cosa... bella è che... c'avevo il... il poster di Baggio... a grandezza naturale... la grandezza naturale di Baggio... era tipo quella... cioè... era tipo alto un... un cazzo... e una Vigorsoul sdraiata... e era abbastanza buffa la cosa... perché essendo io sempre stato relativamente tappo nella vita... mi faceva ben sperare che potessi diventare qualcuno... cosa che ovviamente non si è avverata... ma eh... voglio dire... c'era della speranza da ragazzino... mi piace come in questo calcio non esiste il concetto di fuoricampo... proprio non... no! ho messo la protezione a lui... no... no... l'idea del gioco... di questo gioco sarebbe anche carino... però è una rottura di coglioni incredibile... vabbè... mi dà la scusa per parlare di queste... di queste cose qua... eeeh... mamma mia Paolo... insomma un... che è successo? sei impallato? vabbè... vabbè... allora esplodete... tira da là... nooo... ma c'hai i piedi a banana... tira... tira... non tira... vabbè... e allora esplodete un po' tutti... che vi devo dire... tanto 2 a 0... 30 secondi dalla fine... chi ci ammazza? insomma un cambiamento... ce la faccio a finire sta frase prima o poi... è un cambiamento di stile... nel senso che tutti i poster... testamente tutti i poster... tutto ciò che... cioè tutta la parete era coperta... tranne... il soffitto... eh... però... tutte le pareti fino al soffitto... erano coperte... e insomma che dire... nooo... eeehm... vabbè... 3 a 1... e c'erano tutti questi poster di calcio... cose del genere... presi da vari giornali... e poi... quando ho iniziato a perdere... interesse da quel punto di vista... ho iniziato a subentrare... la seconda fase... che era la fase in cui... iniziavo a sviluppare una certa tolleranza... nei confronti della musica... ho iniziato a scoprire... la mia musica... era il periodo in cui... ricordo tipo... c'erano i Green Day... la prima roba dei Green Day... con... basket case... e roba del genere... che io tipo ho ascoltato... il punk rock per la prima volta... e ho fatto... eeeh... ma è bellissimo... perché tipo per me c'era tipo... la musica tipo... cantautorale... tipo Bob Dylan... De Gregori... roba del genere... e poi c'erano... c'era il metal... ma il metal letteralmente... per me... era gente che faceva... sul palco... mentre spaccava strumenti... non avevo alcuna... alcuna idea di cosa volesse dire... avere... un criterio... avere... del... della tecnica... e cose del genere... non c'avevo proprio l'orecchio... era come se... le mie orecchie non riuscissero a capire... quelle frequenze... e quelle cose là... poi però mi si sono trovato... eeeh... mi sono trovato a... a capire che esisteva... della musica che era orecchiabile... ma comunque sia... anche... un minimo... aperte virgolette... cattiva... ok... a me mi risultava cattiva all'epoca... perché c'erano le chitarre distorte... ah ok... 1 a 0... tutto a casa... abbiamo sconfitto anche la... la Norvegia... quindi... vaffanculo... a tutto il... a tutta la penisola del nord Europa... cos'è questa roba qua? l'avversario mi tira delle palle di fuoco nella testa... vabbè... comunque scusate eh... mi sto dilungando un po' troppo... molto di più di quanto questo gioco meriti... però essenzialmente... finisco un attimo il discorso... per questo cambiamento di stile... in cui in quel periodo mi sono avvicinato alla musica... musica che non era quella che c'era in casa mia... era quella che... ha iniziato ad arrivarmi tramite amici... a scuola e cose del genere... e mi ricordo distintamente che mi ascoltavo... basket case... tipo in cuffia o a volume basso basso... perché mi vergognavo che mia madre mi ascolta... mi sentisse che ascoltavo la musica cattiva... tra virgolette no? poi va bene... mentre c'erano... ci sono state fasi differenti e nella vita... non mi sono fatto poi troppi... ma che cazzo? c'è in bel vita la Spagna! mi stanno sul cazzo gli spagnoli e gli umani in generale... oh segna un po'... esplode il portiere... tira! ma come palo? ma come palo? va a cagare... esplodi di nuovo... esplodi di nuovo... mi sa che questi spagnoli sono più veloci di quanto... vabbè... due pari... ce la possiamo giocare... tira da là! tira! 3-2... ok... tira da là! vabbè... ok... allora... campioni del mondo... esplodi... no... no... minchia però! il portiere mio dorme! eh vabbè... è completamente... fottutamente inutile... quattro pari... vaffanculo... ah... ma c'è la palla in fiamme! un grave problema medico la palla in fiamme... vale! aha... 5-4... scusate... la partita si sta facendo intensa e... 6-4... e insomma... con quella... quel periodo là... con quella musica là... ho iniziato a... voler imparare a suonare la chitarra... che non è stato un processo facile... per i motivi che vi ho spiegato... nel... ultimo per ultimo video... quale cazzo era... mi è esploso il portiere... in una maniera abbastanza divertente... volando fuori schermo... em... em... eh... 9-5... siete inutili... 10-5... plausibile 10-5... come punteggio di partita di calcio... em... e insomma... ho iniziato a voler suonare... facendomi prestare... una chitarra acustica... da un compagniuccio di classe... che suonava... il classico compagno di classe... figo... che suona... si atteggia e si ammazza di canne... e... praticamente da lì in poi... i miei interessi sono... completamente variati... dal calcio... che era una cosa passiva... ti seguivi... e ti esaltavi... o meno... a qualcosa di attivo... seguire gruppi... fare musica... e cose del genere... cosa che ho potuto iniziare a condividere... con compagni di classe... eccetera... l'ha conosciuto... la mia amica Leila... che saluto... anche se non guarderà questi video... per nessun motivo al mondo... però insomma... con la quale ho iniziato a cantare... cioè... lei cantava... io suonavo... e abbiamo iniziato a scrivere canzoni... ho messo insieme il primo gruppo... eccetera... eccetera... poi la storia si farebbe troppo lunga... però... mi ricordo distintamente... come i poster di camera mia... si erano passati da essere poster... completamente orientati al calcio... a poster interamente orientati alla musica... da Baggio del Piero Ravanelli... e quant'altro... hanno iniziato a esserci... i gruppi dell'epoca... e ricordo distintamente il poster degli Oasis... il poster degli Scancanensi... il poster dei Prodigy... Pearl Jam... un sacco di gruppi... comunque sia... dell'ambito alternative rock... mettiamolo così... perché per quanto a me piacesse il punk rock... non lo suonava nessuno... dalle mie parti... per quanto è strano... perché negli anni 90 in particolare... c'era una forte scena... punk rock... giochiamo contro la Cina... che cazzo è sta roba? che cazzo è? esplodete... non capisco... achieve the victory... before the end of the match... si ho capito... ma che minchia è? non sto capendo... ci sono... ah... questa cosa vomita... balle... un po' come me... ah... ci sono due... ah... questa è la porta mia... e questa è la loro... si vabbè... non ci si capisce un... qual è il punteggio raga? ah... il punteggio è 9... ahahah... il punteggio è 9 a 1... quindi io... vabbè... posso continuare a parlare... senza preoccuparmi del gioco... insomma... per quanto mi piacesse tanto... il punk rock... e me lo ascoltassi volentieri... da lì sono passato ad ascoltare tante robe... non ascoltavo solo... il punk... diciamo che... e mi sembrava che il punk rock fosse un mio... la mia cosa... proibita... ok? che mi ascoltavo semplicemente perché... ah... piaceva solo a me... ma tutti gli amici che avevo... ascoltavano rock... alternative rock... e... metal... quindi la roba che volevo fare io... che potevo fare io... che mi andava di fare... e soprattutto potendola condividere con... questa gente... era musica... che era... più rock... generico... per così dire... facciamo roba un po' più influenzata... da quelli che potevano essere gli... Smashing Pumpkins... e roba del genere... e... per questo motivo... Green Day e quant'altro... erano... sono stati solamente una mia roba... infatti in camera mia... sì c'era il posto dei Green Day... ma c'erano... ripeto... Smashing Pumpkins... Oasis... roba alternative rock... anni... fine anni 90... inizi di... inizi di... inizi di... inizi di... inizi di... inizi di... inizi del 2000... erano già in tracollo verticale... gli Oasis... per chi se li ricorda... vabbè ragazzi... ho parlato veramente tanto... però... eh... c'è stata una parentesi nella mia vita... in cui ero fortemente calcistico... e... vabbè... sto andando passivamente... non ho voglia di fare un'altra partita... raga... eh... questa è stata veramente una scusa per me... per chiacchierare... spero che... spero di non avervi annoiato troppo... del resto... eh... questa è una parte di quello che sono... e... sono contento che il calcio ci sia stato... però adesso non me ne frega più niente di un cazzo... ma proprio zero... eh... però è stato... è stata una delle prime cose che mi ha permesso di... permesso di socializzare con amici e cose del genere... visto che ero fortemente asociale da piccolino... non che adesso sia chissà che di... fortemente amichevole... però insomma meglio di allora senz'altro... quindi... forse da qualche... cioè... da questo punto di vista qualcosa gli devo... però adesso... non me ne frega più niente... però sono contento che ci sia stato quando è servito... ehm... grazie per avermi sopportato... e per aver sentito tutte queste chiacchiere assolutamente inutili... eh... ragazzi vediamo tra... non lo so... non lo so... ci vediamo un'altra volta... tanto starò qua a dire cazzate... presto... probabilmente anche domani... ma che ne so... dai... grazie di esserci stati ragazzi... ciao... un bacetto... ciao... grazie a tutti... grazie a tutti... grazie a tutti... grazie a tutti...